Si è riscontrato un problema riguardo a Fortnite, si è bloccato quindi ci dispiace per quanto è accaduto, quindi sono andato ad avviarlo in Epic Games come faccio sempre, si avvia sempre nel launcher e mai sul desktop, quindi si avvia su Epic Games e mi è uscito così quell'error. Ovviamente per risolvere il problema basta semplicemente andare in AppData, quindi vai a scrivere qua sopra esegui, fai in AppData, per cento, AppData, per cento, fai ok, andiamo in AppData e ripristiniamo così la cartella di Fortnite, facciamo local, scendi fino a giù fino a trovare così Fortnite game, save, andiamo in config, crash report client, cancelliamo così il crash report client, abbiamo cancellato il crash, Windows client, game user settings e engine.ini, torniamo un attimo indietro, chiudiamo un attimo qua, entriamo nella, entriamo in Epic Games, libreria, vado direttamente a fare tre puntini, gestisci, opzione di lancio, lo apro in modalità di rendering trattino D3D11, prova così come faccio io, in DirectX11 e faccio la verifica. E ora non mi resta che aspettare. Una volta verificato, prima di avviare il gioco, assicurati di chiudere tutte le applicazioni, servizi aperti sul tuo computer, ovviamente chiudi anche Discord, oppure se stai in chat vocale con qualcuno, chiudi lo stesso Discord e parla direttamente su Fortnite nella chat vocale, vai su Start qua, tasto destro su Start, vai su gestione attività e poi direttamente su servizi, ed eccoli qua. Ovviamente questi sono tutti i servizi che aiutano il sistema a funzionare bene e poi abbiamo i dettagli, tutte le applicazioni, tutte le applicazioni che non ci servono ovviamente, ho Google Chrome attivo, quindi lo chiudo, ho tantissimi programmi .exehost attivi, Epic Games Launcher, Adobe Desktop non mi serve e termino così il processo. Tanti servizi che tieni qua dentro che non ti servono li puoi anche chiudere, per esempio Xbox, voglio capire perché è aperto l'Xbox qua dentro. E chiudo qua, e ora avvio Fortnite, ovviamente Fortnite lo voglio avviare come amministratore e visto che sui tre puntini gestisci, vai nella cartella, vai in Fortnite Game, Binary, 1.64, scendi fino a giù, vieni a trovare Fortnite Launcher.exe, mostra attropazioni, proprietà, compatibilità ed eccolo qua. Io ho già messo la spunta su, esegui questo programma come amministratore. La stessa cosa lo fai anche sul shipping, compatibilità, esegui questo programma come amministratore e facciamo ok. E ora non mi resta che avviare il gioco. Il gioco per ora sta dicendo connessione in corso. Si sta caricando, fortunatamente si sta caricando senza nessun problema. Accesso in corso. Ovviamente abbiamo anche ripristinato le impostazioni su Fortnite. Ed eccolo qua. Quindi, quel passaggio era veramente ottimo. Ho risolto il problema su Fortnite che si è bloccato. Ed eccolo qua. Io con la skin di Doom in Fortnite, basta. Quindi, per altri problemi ancora, puoi commentare sotto al video. C'è una playlist intera con più di 100 video su come risolvere i problemi su Fortnite, Crash, DirectX, problemi agli FPS e molte altre cose. Quindi, grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.